Mi piace la premiazione, Stefania, le tue emozioni. Adrenalina a mille, sono state le ultime due settimane molto impegnative perché comunque avevamo altre partite ma questa era importante. Era importante non tanto per continuare la stagione precedente quanto per portare il primo trofeo a Piacenza perché questa città e questo pubblico se lo merita e ci tenevamo tantissimo. Abbiamo vinto sempre fuori casa, sia la Coppa Italia l'anno scorso che l'ho scudetto ed era davvero un peccato lasciare andare via il primo trofeo davanti a questo bellissimo pubblico. Cercello già vuole la Champions. Godiamoci una cosa per volta, però siamo tutti davvero felicissimi. Qual è stata l'arma vincente? Visco il primo set che stava vedendo Conegliano scappare, poi cosa è successo? Io penso che l'arma vincente è stata soprattutto un muro difesa, i nostri centrali oggi hanno toccato tutto, tutto e quindi in difesa siamo state molto più ordinate e questo ha rallentato il loro gioco, poi siamo state brave noi a ricostruire.